Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come La ballerina di Amici, Carola, manda invisibilio il web per via dell'annuncio dato Ecco la conferma.Amici di Maria De Filippi sta per tornare con la sua 22esima edizione che dal 18 settembre farà compagnia a tutti i telespettatori di Canale 5 Vedremo nuovi talenti cercare di conquistare il tanto ambito banco Ma nonostante si hanno passati qualche mese dalla fine dell'edizione numero 21, il pubblico non ha dimenticato i vecchi allievi e di conseguenza continua a seguirli con ammirazione Amici, Carola dà il lieto annuncio su social.Se il vincitore Luigi Strangis ha avuto un discreto successo sotto il punto di vista musicale grazie ad un buon debutto del suo EP, Albe e Alex hanno calcato palchi di vari festival musicali per far conoscere la propria musica Così come i ballerini Christian, Cosmeri e Nunzio che hanno preso parte, assieme ad alcuni ex allievi dell'edizione 20 di Amici, al corpo di ballo del cornetto Battiti Live si è tenuto questa estate Serena Carella, invece, dopo l'esperienza ad Amici si sta godendo le vacanze assieme al suo fidanzato Albe e presto i due dovranno salutarsi dato che la ragazza comincerà un percorso artistico in una prestigiosa scuola di danza di New York grazie alla borsa di studio vinta all'interno del talent Diversamente, Carola Pundu, ballerina di danza classica eliminata durante la quinta punta del serale ha avuto un ingaggio dal Balletto di Roma per interpretare il ruolo di Giulietta nel balletto classico Giulietta e Romeo al fianco di Paolo Barbonaglia, anche lui ex allievo di Amici in cui ha preso parti nella quindicesima edizione I due ballerini saranno diretti da Fabrizio Monteverde e debutteranno con lo spettacolo al Teatro Olimpico di Roma dal 4 al 9 ottobre per poi girare i teatri italiani in un tour che durerà qualche mese Una vera e propria soddisfazione per Carola dato che non è riuscita ad arrivare in finale come invece tutti speravano e la sua eliminazione dal programma è stato un vero e proprio colpo di scena La bambina che diventerà futura danzatrice.In questi giorni, la ballerina in compagnia del suo amico e compagno di avventura Michele Esposito, conosciuto all'interno della scuola e da un po' di tempo sembra essersi allontanata dal vincitore Luigi Strangis con cui aveva avuto un rapporto sentimentale I due dopo il talent sembrano non essere più affiotati come prima per via della lontananza dei propri impegni ma è proprio sui social che Carola ha voluto annunciare il lieto evento con una foto che non lascia alcun dubbio Sarà una futura ballerina afferma la danzatrice pubblicando tra le sue storie un'immagine che ha commosso tutti i suoi fan e possiamo vedere come Carola stringe la mano ad una neonata La bambina è la figlia di Alice Orr che si presume dalla frase sia una sua collega e che sua figlia seguirà le orme di sua madre e della sua amica Ciao e ci vediamo nei prossimi video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti